Sarebbe bello avere una famiglia con tanti bambini che portano gioia in questa casa. Mi ricordi tanto tua mamma. Che senso? Eh, me la ricordo proprio a me te che era sempre cara con la sua famiglia e i suoi figli. Tu a chi non pensi a le belle cose, pensa a tuo bel Giuseppe. Tombi, quella si prende pure a Giuseppe. Ma mamma non ti ha maledetta, basta. A mangiare la superstizione non sono cose gradite davanti agli oggettivi. C'è un paese che non si prende pure e giuste. Per il giusto è un paese che non si prende pure. Per il giusto è un paese che non si prende pure. Grazie a tutti